12 ottobre 1492 Le tre caravelle apparecchiano la tavola per il banchetto più ricco della storia a spese dei nativi americani la cui terra viene ribattezzata dai commensati Nuovo Mondo Los Angeles, Nuovo Mondo I poliziotti responsabili del pestaggio di Rodney King sono attualmente liberi ed in servizio ONU, l'80% delle risorse mondiali vengono utilizzate dal 15% della popolazione Roma, un'aragosta al ristorante di Montecitorio costa 12.000 lire Città del Vaticano Il Papa, rivolgendosi ai popoli del terzo mondo, ribadisce l'inconciliabilità del controllo delle nascite con la fede cattolica Mentre ci state ascoltando sono in corso al mondo diverse guerre, tutte combattute con armi prodotte in Occidente Accendo tutto ciò che sembra non farmi pensare La mia casa è sicura a non chiamare La mia voce e ore su di te è il mio stesso sole Un altro giorno la tua ragione muore Justice 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 La mente macchia a mani Justice Riempiti la bocca di cibo e di parole Di posto armare Squilibrato Equilibrare Ci penso un po' che troppe volte la guerra e il dolore Quante donne questa notte dormiranno sole Justice Chiamala, chiamala Justice Riempiti la bocca di cibo Justice Riempiti la bocca di cibo e di parole Justice Grazie a tutti 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 Grazie a tutti